Si svolgerà domenica 16 settembre, con partenza ed arrivo a Cerrelli di Altavilla-Silentina, il Giro della Piana del Sele, gara nazionale di ciclismo categoria Amatori. La corsa, che si svilupperà su un percorso di quasi 90 chilometri, toccherà vari comuni della Piana del Sele, tra cui Capaccio Pestum, Eboli, Albanella. È una tradizione del nostro territorio, è diventata oramai una classica che non può mancare nel calendario ciclistico campano. Il mese di settembre per l'Usacli è il mese più importante perché abbiamo nelle tre domeniche settembrine di fine estate tre tra le manifestazioni più belle che ci stanno in Campania. La settimana scorsa a Polla l'amico Rufino Tortoro ha presentato il Festival dei Velocisti, noi il domenica 16 con il Giro della Piana del Sele e poi si conclude con il trofeo CPS a Fisciano. Ogni gara ha il proprio valore. La nostra è per tradizione una gara molto impegnativa dove vengono fuori gli atleti più forti. Il nostro albodoro è caratterizzato dalla presenza di corridori che sono in questi giorni chi è al Tour de France o chi è al Giro d'Italia e questo per noi è un motivo di vanto. Quest'anno abbiamo dedicato l'opuscolo della gara a un aspetto particolare, è il tributo agli sponsor, perché grazie agli sponsor e alle amministrazioni che ci supportano abbiamo la forza per andare avanti. Quindi se qualcuno può consultare l'opuscolo della gara vede tantissime attività che sono eccellenze nel nostro comune che escono fuori, che si fanno conoscere e portano le cose buone della nostra comunità al di fuori dei confini altavillesi. Il percorso di quest'anno abbraccia quasi tutti i comuni del circondario, perché partiremo da Cerrelli, affronteremo le strade del comune di Albanella, poi a Capaccio, ancora a Eboli per far ritorno ad Altavilla. La nota caratteristica, che è la salita finale, è prevista sotto le curve del muraglione per far sì che effettivamente, come dicevo prima, gli atleti più forti vengono fuori alla distanza e anche quest'anno penso che ci sia grande battaglia tra i ciclisti per passare per prima sotto il traguardo di Cerrelli. Come gli altri anni, anche quest'anno l'associazione mantiene l'impegno di portare avanti questa tradizione che oramai siamo alla ventitresima edizione e cerchiamo di collaborare con l'organizzatore che è sempre Enzo Mordente, che da tanti anni per la sua passione è forte per questa attività sportiva e noi collaboriamo in particolare sulla parte burocratica per la manifestazione e facciamo in modo che ogni anno, anche se negli ultimi anni ci sono sempre problemi sempre più burocratici per i vari problemi di autorizzazione, diamo una mano, un supporto a questa, mentre la parte tecnica se ne occupa Enzo Mordente. È una manifestazione che comunque ci affascina tantissimo dal punto proprio di vista sportivo. Siamo vicini a questa manifestazione perché oltre ad essere una cosa molto bella e interessa il territorio di Altavilla-Silentini in gran parte e anche nelle zone limitrofi, diciamo che potrebbe essere anche un veicolo per far conoscere pure i nostri luoghi, le nostre bellezze, le nostre cose. E noi, come Edilla Costruzioni, che ormai operiamo sul territorio da 30 anni, anche per quest'anno siamo vicini, come negli anni passati, all'associazione che fa parte della gara ciclistica della Piana del Sele.